Ciao a tutti da Vittorio. La vicenda Murici-Clabrush potrebbe non essere finita qui. C'è un'evoluzione dell'ultimo momento che potrebbe veramente essere molto interessante, soprattutto per la Lazio. Che cosa è successo? Come sapete Vedat Murici stamattina si è presentato a Badeia per fare visite mediche. Come ha confermato lo stesso giocatore, non andrà ad Auronzo a prendere parte al ritiro della Lazio. Allora, perché Vedat Murici ha svolto queste visite mediche? Bene, secondo il giornalista che ha anticipato tutti sulla notizia di Vedat Murici al Clabrush e ha anticipato anche tutti a gennaio, quando Murici è passato a Mallorca, ha dichiarato che le visite mediche fatte dalla Lazio era solamente per dimostrare che il giocatore non ha problemi fisici. perché il Clabrush vorrebbe dimostrare che l'accordo è saltato perché Vedat ha fallito le visite mediche. Invece le visite mediche fatte in Padeia pochi giorni dopo, quelle fallite in Belgio, sono andate benissimo. Hanno dimostrato che il giocatore non ha nessun problema. Da resto, come ho già detto la settimana scorsa, il Clabrush avrebbe dichiarato che ci vogliono due mesi per mettere in forma Vedat Murici, due mesi, è una cosa impossibile. Al massimo ci vogliono due settimane per un calciatore, per un atleta professionista come è Vedat Murici. Vedat Murici che, solo un paio di settimane fa, tre, quattro settimane fa forse, ha giocato a Nazionale perché lui era un giocatore, dal punto di vista fisico, già pronto per il campionato. E queste visite mediche sono fondamentali perché adesso la Lazio rimanderà il giocatore in Belgio. Vedat nei prossimi giorni, non credo domani, ma forse mercoledì o giovedì, tornerà in Belgio e la palla ripasserà al Clabrush. La Lazio ha dimostrato che il giocatore era in condizione ed era integro, per cui il Clabrush ha due opzioni sostanzialmente. O accettare e firmare il contratto di Murici e pagare alla Lazio i 11 milioni concordati, oppure respingere e rimandare Murici a Roma. In quel caso la Lazio si appellerà alla FIFA e il Clabrush sarà costretto verosimilmente a pagare una multa molto salata, perché ovviamente c'era un preaccordo con la Lazio che diceva che il giocatore era del Clabrush. L'unica condizione per cui l'accordo potesse saltare è che Murici fallisse le visite mediche. Per questo la Lazio ha fatto fare le visite mediche a Murici oggi, che è passato senza nessun problema, e quindi per dimostrare che il Clabrush mente che le visite mediche sono state passate e non è che in Belgio fanno diversi test, sono quelli classici, quelli che fai ovunque e se Murici le ha passate lunedì a Roma non può averle fallite venerdì in Belgio. Non c'è abbastanza gap. Per cui attenzione perché il Clabrush adesso si troverà in una posizione scomoda. dover prendere a tutti i costi Murici che sembra diventato un pacco postale ed è una cosa molto brutta. Anche perché, come dicevo l'altra volta, io sono convinto che Vedat in Belgio farà molto bene ed è un giocatore che secondo me al Clabrush potrebbe essere molto utile. Per cui non capisco questa polemica fatta da Clabrush, o meglio, la capisco. Clabrush vuole risparmiare i soldi, non vuole pagare 11, vorrebbe magari averlo in prestito con diritto di riscatto. Ma se hai concordato un prezzo, se hai firmato un preaccordo, poi lo devi rispettare a meno che non subentrino una di quelle clausole che ti consente di sciogliere il contratto. Le clausole, ovvero visita medica, non può essere tirata in ballo perché Murici l'ha passata e quindi adesso Clabrush si ritrova nei casini. O prende Murici e paga la Lazio quei soldi oppure sarà portato in tribunale dalla FIFA. Attenzione, purtroppo bisogna dire che queste cherelle alla FIFA non è che si risolvano in due o tre giorni. È una cosa che andrà avanti per le lunghe, però verosimilmente il Clabrush sarà ritenuto responsabile, dovrà rimborsare la Lazio, pagare una multa salata e chissà, magari sarà pure costretto a poi prendere Vedat Murici. Staremo a vedere, però questo è un risvolto importante perché, ve l'ho detto, la cessione di Murici è fondamentale per la Lazio perché sarebbero soldi freschi che la Lazio potrebbe spendere nel calciomercato. Per cui attenzione perché la vicenda a Murici non è conclusa, Vedat stesso lo ha detto, non andrò ad Auronzo, verosimilmente tornerà in Belgio il prima possibile, a meno che, attenzione perché nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma del Mallorca. Magari gli spagnoli, visto che rischiavano di perdere il giocatore, che era un passo veramente dal Clabrush, magari torneranno alla carica con un'offerta un po' più alta per provare a prendere Vedat Murici. In quel caso la Lazio, se il Mallorca offrisse lo stesso prezzo del Clabrush, potrebbe accettare l'offerta del Mallorca ed evitare una polemica lunga contro il Clabbelga. Staremo a vedere, voi che ne dite, scrivete un commento qua sotto e noi ci vediamo dopo per la diretta. Ciao!